ritorno alla navigazione nel cilento siamo quasi al tramonto con questa brezzolina serale da 6-7 nodi vediamo di polina velocità attuale siamo sui 5.5 da un circolento non so dove c'è la salve lì no scappo il supervento sollevato saluto da Jarvis oggi navigazione in solitaria si sta da dio